martedì pomeriggio e come sempre eccoci qua con il video del darione sussorare oggi sono anche brandizzato visto che gli ari hanno messo lunedì 22 gennaio 2024 in vendita a 50k mi permetto di dire signori di solare forse leggermente un po alto visto che le jersey firmate delle squadre di calcio importanti costavano 35k coins però insomma hanno messo in vendita la felpa è molto bella ci si sta molto comodi noi quando appunto collaboravamo come tribe con la consolare insomma ci mandarono il pacco e cappellino la maglietta la felpa che vi metto sempre molto volentieri quando vado a vedere le partite proprio grazie assorare e oggi finalmente torniamo a parlare d'asia manca circa un mese all'inizio dei campionati un mese per la g league un mese una settimana per la che i league e questo è il primo di due video questa è la parte 1 dei giocatori da cap di 240 che io vi consiglio a un mese dall'inizio dei campionati s05 asia e in questa prima parte vi faccio vedere i portieri e i difensori nella seconda parte che uscirà probabilmente la prossima settimana vi farò vedere invece centrocampisti e attaccanti prima di andare a vedere nel dettaglio perché il video sarà comunque un pochino lungo quindi cercate di avere di avere un po di pazienza ma insomma sarà meritata questa pazienza perché insomma vedrete sono tanti 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 calciatori che vi proporrò vi ricordo che se vi interessano i miei video di cliccare sulla campanella così da essere sempre aggiornati quando ne esce uno nuovo qui sul canale youtube vi ricordo anche che ho un bel telegram dove ci sono un sacco di ragazzi esperti poi se parliamo di asia veramente è il non plus ultra della community italiana non ce ne sono paragonabili a questo vi ricordo anche che c'è un livello nuovo sul patreon che viene dal bonus che avevamo attivato con i miei collaboratori a dicembre gennaio quindi adesso con sostanzialmente 89 euro l'anno vi abbonate all'unico pattern che c'è in italiano su asia e non solo bundesliga scottish insomma si parla anche di questo ma ho ragionato anche troppo di queste cose organizzative andiamo a vedere il contenuto vero e proprio iniziamo dai portieri andiamo a vederlo eccolo qua iniziamo con il portiere titolare del jeju è rinnovato c'erano state voci su di lui no che potesse essere trasferito al frontale al momento sono cadute tutte e si sta allenando con la squadra insomma nel ritiro precampionato che hanno iniziato tutte le squadre coreane e giapponesi lo vedete a un l15 ottimo perché a 47 46 di l5 quindi si manterrà sostanzialmente per un po per questo l15 sperando ovviamente che lui mantenga questo tipo di prestazioni le andiamo a vedere insomma eccolo qua ottimo secondo me per la squadra che il jeju kim don joon è comunque un ottimo portiere poi in generale è proprio un ottimo portiere a pb piace molto e i prezzi sono secondo me molto molto interessanti perché comunque lo vedete il limited ultima vendita in asta serve 55 quindi ci sta tutto per un portiere cup di l'ho comprato da poco tra l'altro a 160 euro e l'ultima sta comunque lì intorno a 170 che se il fronte un pochino alto quindi ancora oggi secondo me ha un prezzo veramente molto molto interessante e secondo portiere che vi propongo è il portiere del dejon siamo sempre in k1 e li shang gun veramente un ottimo portiere l'anno scorso le ha giocate tutte quindi da anche continuità è le 15 48 le 5 50 il dejon quest'anno ha fatto una squadra ulteriormente più forte e tra l'altro intervenendo in maniera secondo me molto 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 importante in difesa con ottimi acquisti e vedete andiamo prima sul prezzo 8 e 75 la limited in floor però l'ultima vendita è 7 euro e 21 mentre in raro eccolo qua a 189 ultima vendita è un pochino più alto insomma il floor però secondo me anche in questo caso è un ottimo prezzo perché questo è un ottimo portiere guardate sono tentato io stesso ora che ho visto quanto costa di provare a prendere una copia perché veramente molto molto interessante tra l'altro tutti comprati in asta e le ultime vendite anche questo questione molto interessante andiamo invece in giappone voliamo un attimo in giappone per un portiere gli altri avevano un'età diciamo ancora non proprio vegliarda nishikawa è vegliardo ma insomma è il portiere comunque titolare di una delle squadre più forti che ci sono in s05 asia yurao aretz tra l'altro quest'anno si sono forzati tantissimo punto nel titolo vedete che è un l15 di 47 è un l5 di 35 perché le ultime prestazioni sono state un po' così ma comunque sarà il titolare anche l'anno prossimo questo l5 permetterà tra l'altro di stabilizzarsi all'l15 e di andare avanti per un bel po' in questo modo lo vedete ultima vendita a 9 euro e 37 in limited il floor sta leggermente più alto ma insomma siamo lì 170 all'ultima vendita in rara e qualcuno qui ci sta provando ma insomma anche lui il prezzo è ottimo ma lo vedete magari allarghiamo un po' la forbice più o meno da novembre da quando è finito il campionato siamo sempre più o meno intorno alla stessa cifra è un pochino rialzato perché come vi dicevo un portiere di un certo tipo e poi ricordiamoci che gli Urawa non vengono venduti singolarmente le carte dei calciatori Urawa ma in pacchetto quindi per quello si mantiene un pochino di più il prezzo di solito sui giocatori dell'Urawa veniamo all'Angera che è stato rinnovato da pochissimo c'era il dubbio che rimanesse o non rimanesse ma è uno dei migliori portieri che ci sono per me in Asia alle 15 46 tra l'altro ottimo alle 5 49 più o meno siamo lì e di Nishikawa non vi ho fatto vedere le prestazioni ma vediamole eccole qua lo vedete eh questo è veramente un ottimo un ottimo portiere qui c'è anche la Champions League qui lo vediamo in G League ha giocato tutte le partite 15 clean sheet quindi ottimo insomma è veramente ottimo l'Angera che andiamo a vedere anche lui le prestazioni eccole qua eh competizione ovviamente solo G League l'anno scorso ha fatto un pochino peggio di quello che aveva fatto negli anni precedenti eh però era partito fortissimo ma comunque un ottimo portiere il Nagoya va un po' visto perché ha completamente rinnovato la difesa facendo arrivare tra l'altro a Chanray eh dagli Steelers va un po' visto va un po' visto però il portiere rimane ottimo il prezzo lo è lo stesso lo vedete ultima vendita in limite di Nasta a 7 euro e 51 floor leggermente più alto ma insomma secondo me ci si può ragionare mentre ultima vendita in rara 185 euro anche lì leggermente più alto ma secondo me si può prendere sempre a quella cifra lì rimaniamo in G League perché vi faccio una proposta sperimentale nel senso che è un portiere molto vecchio sappiamo che può anche non fare grandi prestazioni ma visto che gli è stato rinnovato il contratto e visto che dovrebbe comunque partire lui come titolare eh ed è soprattutto interessante il fatto che il frontale giocherà in Champions League Asiatica negli ottavi di Champions League Asiatica eh una decina di giorni prima dell'inizio del campionato quindi potranno essere già schierati i cacciatori del frontale così come quelli del Geonbook, quelli dei Marinos e quello degli Steelers quindi state attenti a questa cosa queste quattro squadre si potranno schierare in Champions League Asiatica o comunque in qualsiasi altra competizione voi vogliate in particolare stiamo parlando della cappa di 2,40 già prima infatti lo vedete ve li far vi faccio vedere eh giusto per conferma ecco qua nella 4,49 eh si potranno già schierare tra l'altro partita non partite non difficilissime per il eh frontale perché giocherà contro lo Shandong che non avrà Zeca che eh se siete sul mio Twitter o sul mio Telegram avete già visto la notizia ha un ginocchio che si è gonfiato e dovrebbe essere un infortunio a legamenti insomma quindi molto molto pesante ma insomma rimaniamo agli scores eccoli qua se andiamo a vedere ovviamente la J League eh comunque alla fine ha fatto 6 clean sheet e un finale campionato lo sapete può fare molto male o molto bene questo però io ve lo propongo soprattutto vabbè L15 un po' alto 52 e 54 di L5 ve lo propongo soprattutto per il prezzo perché il limited sta a 5 euro mentre in rara veramente un portiere a titolare così è difficile trovarla a 100 euro eccolo qua 100 euro 102 di floor con il precedente era 80 all'80 sarà difficile prenderlo però però insomma questo secondo me può essere un'ottima presa magari andiamola a vedere aggiungendoci anche eh Camifukumoto che comunque è il secondo che sta a 4,29 in limited e a 88 euro in rara quindi più o meno siamo lì come come spese questo è il floor vediamo l'ultima vendita in rara a 87,22 quindi siamo lì mentre la limited è andata a 3,56 euro in asta quindi magari uno ci aggiunge anche Camifukumoto e questa doppietta in realtà io la propongo anche a chi magari è interessato al portiere della vispa che l'anno scorso è stata una delle migliori difese del campionato giapponese ma che vive di questo dualismo in porta ora vedete infatti che il nostro buon Nagaishi ha giocato 14 partite poi vi faccio vedere anche ovviamente Murakami e questo sta a 102 in raro al floor lo vediamo ultima acquisto a 73 euro in asta floor un pochino più alto è qui qualcuno prova a fare il furbo mentre vediamo la limited l'ultima asta è andata a 3,28 euro 4 euro siamo lì e anche questo se lo volete dovete per me è vedete tra l'altro Nagaishi 47 delle 15 e 47 delle 5 comunque perfetto per la Capped dovete prenderlo con Murakami che ha 46 delle 15 e un L5 spaziale che abbassa un sacco le L15 quindi molto buono vedete il prezzo in caduta non capisco perché a 2,11 euro addirittura alla limited vedete il floor 266 comunque molto buono e 106 l'ultima vendita della rara invece qui qualcuno ha capito che forse Murakami ripartirà titolare 176 vedete questi sono i voti di Murakami ottimo portiere però anche lui alla fine ha giocato 20 partite quindi l'altro 14 lui 20 se uno vuole comprare la rosa dei portieri del Fukuoka li deve prendere tutti e due cioè il titolare della porta del Fukuoka deve prenderli tutti e due altrimenti rischia di rimanere con il cerino in mano cerino in mano che però vi può rimanere anche poi quando dovete andare a decidere chi fa giocare titolare perché magari poi gioca l'altro altra questione di cui si parla spesso nella mia community sono i portieri del Suon qui li vedete No Don John e Park Bejong Li Bun Jung è il terzo però magari fa come l'anno scorso e si inventa qualcosa e poi hanno comprato un portiere nuovo a Jun Su che viene direttamente dalla K2 allora ipoteticamente il titolare è No Don John darei come partente lui però va visto perché c'è un nuovo allenatore l'anno scorso ha giocato 23 partite lo vedete è partito Li Bun Jung prima perché lui era rotto poi ha giocato lui tra l'altro non ha giocato nemmeno male poi finale di stagione pessimo come tutto il su One FC ovviamente ha un L15 a 40 L5 a 33 quindi può ancora calare è un prezzo che non ha senso secondo me perché comunque è molto basso 2 euro e 35 il limite 3 euro e 27 il flore potino alto ultima vendita della rara in asta 75 62 70 euro addirittura viene venduto ma insomma poi park by che è anche un cattivo portiere No Don John comunque un portiere discreto vedete ultima vendita a 0 44 l'ha preso Satonio in asta mentre la rara ultima vendita a 20 euro quindi qui qualcuno ha messo a 44 e 78 ma andiamocelo a vedere questo nuovo portiere a Jun Su il problema è che vedete a 19 carte quindi la gente dovrà tenerselo potrebbe anche lui fare delle presenze secondo io il mio consiglio è di non toccare la porta del suo ne questo è il consiglio spassionato che io do non toccate la porta del suo in generale poi abbiamo visto che i prezzi sono abbastanza contenuti perché comunque se andate a vedere ad esempio se siete sul bot di series lui fa uscire quotidianamente la situazione dei prezzi e quella di asia non è proprio straordinaria non lo è in generale ma ad esempio le limite di eri avevano subito un meno 1,8 per cento le rare 0,5 insomma quindi i prezzi in realtà sono ancora contenuti per comprare giocatori capped molto buoni che ricordiamo sono quelli che costano di più eh perché se ne aspera assurda andate a vedere i top hanno dei prezzi che sono vabbè sono sempre da tirare tutti su insomma comunque torniamo e parliamo di difensori cioè torniamo di qua parliamo di difensori e partiamo con uno di quelli che è secondo me uno dei migliori difensori eh su su per la capped è vero che ha l15 53 alto e l555 alto ma insomma in alcune partite io comunque non disdegnerei di metterlo lo vedete addirittura qui qualcuno la prezza 0,24 serissima questo è stato veramente eh così insomma eh una vendita clamorosa 1,15 prenderei 0,61 il limited veramente regalato ma perché ha una capped è leggermente più alto del dovuto eh 12,93 l'ultima vendita in eh rara con un flora 12,27 io ce l'ho ma ce l'ho dall'anno scorso l'ho preso in tempi non sospetti questo è gli scores che può fare allora se prendete Kim Dong Joon secondo me può essere molto interessante prendere anche lui all'inizio si era infortunato eh quindi le partite in cui non ha giocato da titolare sono sostanzialmente nella prima parte della stagione eh lui tornava in Corea in questa stagione e secondo me per essere una squadra come il GERU fa veramente grandi voti passiamo poi a invece squadre proprio a una squadra che è propriamente da capped e secondo me non farà male come come ha fatto l'anno scorso ovviamente se qualcuno è tifoso del del Kashiwa Reisole sta guardando questo video si può toccare dove preferisce ma insomma suggerisco eh intanto il primo è Diego che gioca appunto da eh mentre Lim Chaimine era un titolo è un centrale della difesa eh Diego gioca dai o centrale ma principalmente da esterno basso difensivo a sinistra ultima vendita al limite da 0,21 mentre la rara è vedete leggermente in salita a 23,74 con il Flora 25,56 perché la gente se ne sa conto comunque che con questo L15 a 44 L5 a 43 difficile trovare un difensore così si è rotto tutto nella prima parte di stagione quindi ha giocato soltanto nell'ultima parte e comunque nonostante le pessime prestazioni nel Reisole comunque lui non ha fatto proprio schifio schifio eh niente di particolarmente significativo ma è per me una buona pick perché comunque quando giocava al Sagantoso faceva bei voti possiamo andarlo a vedere insomma se sono stati conservati lo vedete eccolo qua insomma per essere anche lì al Sagantoso una squadra che lotta per salvarsi insomma non male quindi credo che Diego dopo un anno di ambientamento possa tornare a fare bene e l'altro è sempre dal Reisole ed è il suo di rimpettaio ovvero l'esterno basso a destra e Ishii Katayama lo vedete alle 15,46 e alle 5,48 perfetto andiamo a vedere prima i voti questo fa eh qui sarà leggermente infortunato non ha giocato però ecco fa voti bassi ma fa voti in media secondo me appunto partendo dal presupposto che il Reisole non potrà fare male come l'anno scorso andiamoci a vedere i prezzi la limited vabbè qui ci sono due forbici pazzesche eh sempre serista 0,23 quindi deve essere una trattativa che lui ha fatto visto che ci sono giocatori tutti insieme a questo prezzo e comunque diciamo 1,59 ultima asta ma sta a 0,41 ma vabbè incredibile mentre vedete l'ultima vendita in rara quella era la limited è 5 euro qui è messa a 18 euro ma insomma qui si può fare una trattativa secondo me eh e non è male passiamo alla vispa di cui abbiamo visto i portieri nella prima parte di questo video è le 15,47 le 5,40 per Douglas Grolli uno dei migliori difensori il brasiliano della J1 per le capped ovviamente in limited vedete il prezzo 1,14 l'ultima asta ultima vendita 0,64 sta a 0,61 io non so perché Grolli stia così basso la rara questa è la limitata ovviamente la rara 11 euro e 67 ultima vendita 16 euro e 15 quindi secondo me è ancora prendibile a cifre estremamente interessanti lo vedete a parte ovviamente alcune prestazioni non stiamo parlando di uno dei top di categoria di uno soprattutto che gioca in una squadra che è stratop una squadra di mezza classifica insomma però lo vedete i voti sono ottimi lasciate perdere la parte finale in cui non ha giocato in cui la vispa ha fatto un po' schifo secondo me questo è un'ottima pick altra pick invece interessante che vi propongo è quella di un cacciatore che l'anno scorso non era propriamente titolare si alternava giocava entrava è Kim Kang San perché quest'anno il Daegu ha perso sia On Jong-un che Jojin Vu, On Jong-un perché è andato al Daeguon e Jojin Vu perché è andato a fare il militare quindi Kim Kang San Kim Kang San sarà probabilmente il nuovo titolare al centro della difesa insieme a Yoshino che è arrivato appunto dalla J-League lo vedete ha un L15 a 46 è interessante con questo L15 che è un po' falsa la situazione perché ha fatto un finale di stagione incredibile questo è secondo me la cosa interessante cioè che questo ragazzo ha grandissime qualità molto rispettato a Daegu e tutti sono curiosi di vederlo finalmente in una stagione da full titolare ultima asta a 1,14 1,43 rimane il floor quindi molto interessante l'ultima vendita è andata un po' alta secondo me a 25 euro tanto è vero che sta a 20 euro qua di floor però li vale tutti secondo me eh li vale stra tutti anche perché il Daegu zitti zitti tutte le volte uno ne parla sempre poco e poi invece invece fanno sempre bene fanno finale il quinto sesto posto insomma quest'anno hanno tenuto i brasiliani sì ci sono delle voci di partenza per Bobsin Victor Bobsin ma insomma con Cesini a Edgar e Barcelos secondo me si può continuare a divertire andiamo di nuovo in Giappone per Gotoku Sakai che è all'esterno basso difensivo di destra Kim Kansang mi sono dimenticato di dire che gioca da centrale ovviamente è una difesa a 3 del Daegu io qui l'ho preso alto perché volevo completare la la collection quindi lasciate perdere il mio prezzo mentre qua lo vedete a 2,15 euro ultima vendita in limited mentre l'ultima vendita in rara è a 42 euro e 69 qui qualcuno è esagerato con il Flora ovviamente però insomma 49 delle 15 43 delle 5 sempre perché poi il Wiesel è un po' calato lui qui è andato fortissimo all'inizio prestazioni sempre un po' così però gioca nel Wiesel il Wiesel fa anche la Champions vedi ma insomma questo è un titolare sicuro dalle prestazioni sempre comunque costanti quindi va bene altra torniamo in Corea però invece un nome che magari un po' può essere un po' inaspettato Yun Suk-jung del Gangwon gioca da esterno basso difensivo di sinistra ogni tanto gioca anche al centro ve lo propongo perché secondo me costa una cazzata ed è un titolare un euro limited vedete l'ultima asta sta a 0,61 quindi anche meno il Flora 4 euro per quanto riguarda l'ultima vendita e 8 euro e 59 il Flora questo secondo me è veramente una buona presa lo vedete all'inizio non ha fatto un granché poi qui non ha giocato perché si era leggermente infortunato le ultime prestazioni invece non poi permesso al Gangwon di migliorarsi vedete le prestazioni che fasceva non erano positivissime perché giocava da centrale mentre quando poi l'hanno spostato lb e il prossimo anno sarà lb prestazioni sontuose anche da un punto di vista di a cioè che è una cosa veramente molto interessante e costa veramente una cazzata io non so come sia possibile che costi così poco l'itai sok ha rinnovato da poco gioca nel sol lo consiglio anche perché kim jidong l'allenatore che arriva dagli steelers stiamo parlando di k1 degli steelers gioca tantissimo con gli esterni lui è anche del 23 quindi al di là della cup se vi serve un giocatore per l'under 23 lui è il nome che fa per voi lo vedete l 15 35 l 50 perché nelle ultime giornate non ha giocato perché si è infortunato ma la si sta allenando tranquillamente non guarderei tanto lo storico anche se è questo perché appunto c'è il cambio di allenatore e lui è comunque un esterno molto giovane di cui si parla molto 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 bene vedete il prezzo 0 88 io ce l'ho l'ho preso una ventina i giorni fa un euro in flor quindi siamo lì eccolo qua lo vedete l'ho preso il 10 gennaio 15 giorni fa 15 euro e 54 più o meno siamo sempre lì secondo me va bene ultima vendita a 20 euro vedete in calo a 18 euro questo è un altro che secondo me poi ve lo ritrovate e fa molto bene poi scelta low cost anche questa chisashi a piatta vio ha rinnovato col chioto l 15 37 nelle 5 52 perché ha giocato bene nell'ultima parte del campionato lo andiamo a vedere vedete ha finito benissimo quindi non ha giocato lui tende un po essere un po espulso un po un po è però è titolare ora non guardate se andate a vedere lo storico lasciate perdere la prima parte ormai gioca da titolare e lo vedete eccolo qua ultima vendita a 0 22 sta a 0 61 quindi a metà di un caffè il limited mentre la rara sta a 8 euro 11 euro siamo lì insomma questo è per completare la rosa è ovviamente non tutti sono da prendere per farli giocare i titolari però magari quando uno fa la rosa per la cappa è 2 40 che sia limited che sia rara non parlo di super rara perché io non ne ho ma insomma certi giocatori proposti vanno benissimo ovviamente anche super rara anzi forse molto molto bene però insomma ci sono il fatto che se uno almeno cinque quattro cinque difensori deve averci secondo me per la cappette ci vuole almeno una rosa da 13 15 calciatori è per essere sicuri durante tutta la stagione scelta particolare quella che vi faccio è quella di kim yung won lasciate perdere al solito la mia il mio acquisto che io faccio solo per completare la collection ecco quest'asta che è andata a 1 euro e 82 molto molto bene direi questo euro 82 per uno dei difensori più forti che ci sono in corea kim yung won è anche il nazionale titolarissimo dell'ulsa due volte campione di corea le 15 a 51 l 5 54 lo andiamo a vedere ecco qua qui è perché ogni tanto si alterna ecco l'unica cosa è che o mi un buoni tanto tende a fare l'allenatore dell'ulsa a fare un po di rotazione però insomma lo vedete voti sono ottime sono ovviamente di un livello superiore quindi questo è questo è un altro tipo l'inchaimin e che io vi propongo perché veramente il prezzo è no sense il limite sta un euro un euro e 82 e rara l'ultimo è andata a 33 euro e 69 in asta con 35 37 quindi siamo lì insomma molto 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 buono ma torniamo di qua per i saluti finali spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se avete dubbi richieste da fare domande su queste liste o altri giocatori da suggerire perché ovviamente ce ne sono altri sono andato su quelli che secondo me possono essere insomma buoni per la cap 2 40 ma evidentemente ce ne sono altri scrivetelo appunto nei commenti se vi è piaciuto questo video lasciato un like se siete interessati agli altri video che usciranno qua sul mio canale cliccate ovviamente sulla magica e incredibile campanella ricordate il telegram spaziale lo trovate nei commenti ricordatevi anche il patron anche quello lo trovate nei commenti magari vi fate un giro vedete gli articoli che ci sono e ricordatevi anche che se siete nuovi sussurare vi interessa giocare c'è sempre il mio refera insomma vi viene dato un buono un buono per fare degli acquisti in asta di 20 euro quindi insomma non direi che non è male detto questo buon storare a tutte e tutti ciao ciao